La prestazione secondo me è importante, siamo stati bravi ad approcciare una partita che sicuramente non era facile, la terza in una settimana, invece siamo stati bravi, siamo stati bravi ad approcciarla soprattutto mentalmente, siamo stati in partita sin dall'inizio, bravi a sbloccarla e poi bravi a continuare a fare gioco e poi a fare i gol che ci hanno permesso appunto di raggiungere questi tre punti molto importanti per noi. Sulla prima rete sono molto contento, molto contento di averla trovata, mi sono ripreso quella che mi avevano annullato mercoledì contro il Varese, ma soprattutto sono contento che è stato un gol che ha aiutato la squadra a raggiungere i tre punti e questo è una cosa fondamentale. Per quanto riguarda il cammino stiamo increscendo, stiamo lavorando molto molto bene facendo quello che ci deve fare il mister e quindi dobbiamo solo continuare così e crescere sempre di più come stiamo facendo. È una partita difficile contro un avversario che inizialmente ci aspettava tutti gli ultimi 30 metri di campo, siamo stati bravi con pazienza a trovare il vantaggio che non era facile e poi l'abbiamo gestito molto bene andando anche a raddoppiare e poi a triplicare sul finale. L'unico rammarico è un po' gli ultimi 15-20 minuti dove forse abbiamo abbassato un po' la concentrazione e abbiamo rischiato qualcosina, ma va bene così, ci prendiamo questi tre punti importantissimi e andiamo avanti. Sì, questa era la mia prima partita, sono molto felice per il gol, è iniziato bene e spero di continuare, soprattutto perché grazie anche a questo gol sono arrivati i tre punti.